Ciao ragazzi, oggi andremo a provare assieme i Monami, ovvero gli evidenziatori che fanno parte della mia top 3 degli evidenziatori migliori. Questi evidenziatori hanno la doppia punta e li andremo a provare assieme su questo quadernino della Midori. Questi evidenziatori li potete trovare tranquillamente su Stationary Pal, io li ho presi lì, ho preso la confezione con questi colori vintage. Se volete fermate il video per leggere meglio le colorazioni, potete trovare anche delle colorazioni ovviamente diverse, però a me piacevano queste. E niente, adesso vi lascio con la stesura dei colori, devo dire che sono davvero molto belli, le colorazioni sono soft, anche se due sono un po' più scurette come questa qua verde e anche questa blu meravigliosa, guardate che bella, assolutamente consigliati.